La cultura della massoneria nella provincia di Pesaro, Urbino. Questo è il titolo dell'evento che si terrà sabato 5 ottobre presso l'hotel Charlie di Pesaro alle ore 10, dove verranno raccontati i principi e valori della massoneria e si ripercorrerà la storia dei liberi muratori dalla prima metà del Settecento fino ai giorni nostri, come anticipa Marco Rocchi, consigliere dell'Ordine del Goi. Dai Moscavarsi ai rapporti con Stendale e Casanova, all'era napoleonica prima e al risorgimento poi, dalla figura di Terenzo Mamiani alla rinascita del Grande Oriente d'Italia, fino ai sindaci di Urbino e Ferminiano, Budassi e Farasconi, le chiusure delle logge con l'avvento del fascismo, il maestro venerabile Gasperini, tra i fondatori del Partito Comunista Italiano al Congresso di Livorno, poi la Repubblica e la loggia Garibaldi di Pesaro, madre delle logge della provincia, della Romagna e di San Marino, fino alla loggia Casanova e alla massoneria dei giorni nostri. A tutto ciò si unisce anche il Museo Massonico di Pesaro, con oltre 500 reperti nazionali ed internazionali donati da famiglie massoniche, che farà parte del circuito itinerante, anche in forma virtuale, dei nove musei massonici italiani. Tante le storie dunque che la cultura della massoneria pesarese avrà da raccontare il 5 ottobre. Noi abbiamo voluto cogliere proprio questa occasione delle celebrazioni della cultura nella ricorrenza di Pesaro 2024, capitale della cultura, proprio per contribuire alla interpretazione della cultura in tutte le sue forme e in particolare per evidenziare che la cultura massonica è diffusa nel contesto sociale e territoriale, come pure nel contesto nazionale, più di quanto non si creda, in quanto i principi massonici, a partire dal principio di libertà, uguaglianza, tolleranza, hanno costituito le basi su cui sono state costruite le strutture e le istituzioni storiche. Quindi noi siamo convinti che non si può parlare di cultura tralasciando, senza ricordare quella che è la cultura massonica, il contributo che la cultura massonica ha dato, in quanto questa cultura è diffusa, come dicevo, pur non essendo palesemente conosciuta, ed ha contribuito allo sviluppo storico e sociale della nazione. L'occasione per appalesare al mondo intero, al mondo cittadino e soprattutto al mondo peserete, diciamo, quelli che sono i valori della cultura massonica, quindi illustrare quelli che sono i nostri principi, i valori tipici della massoneria. L'occasione della comunione massonica peserete, nella fattispecie il rito simbolo italiano, le loggie peseredi, hanno pensato di organizzare un evento, un evento culturale, presso l'hotel Charlie di Pesaro, per parlare appunto della cultura della massoneria. La cultura della massoneria è una cultura che riguarda non solo il territorio, ma riguarda anche la nazione e tutta la comunità massonica internazionale. E ovviamente a parlare di cultura in generale si deve parlare anche di cultura della massoneria. Al convegno parteciperanno come relatori due personaggi importanti, il professor Marco Rocchi è consigliere dell'ordine e nonché docente universitario, l'architetto Martiano Pagella, che è il presidente dell'Associazione Culturale del Rito Simbolo italiano, e il tutto moderato dall'avvocato Enzo Bacciardi, che è il presidente del collegio Pisarum e Tefano Fortuna. Alla conclusione parteciperà il Marco Vignoni, che è il grande oratore del Grande Oriente d'Italia, Palato Giustiniani.